L'intenso mese di gennaio calcistico vive un ottimo weekend ricco di colpi di scena in tutte le categorie. Di vera e propria impresa si parlava alla vigilia e tale si è rivelata quella della CR Messina, che viole il pinto di Caserta a 0-2 il finale e si regala una settimana fuori dalla bagarre play-out. Urge continuare con lo stesso Leitmotiv domenica prossima al Franco Scoglio contro il Taranto VI. Catapultandoci in serie di capolista Trapani a riposo forzato ne approfitta il Siracusa espugnando il catino dell'Ocri e portandosi a meno uno dai Granata. Tre le sconfitte esterne per le siciliane a cominciare dal città di Sant'Agata, che viene rimontato dalla Vibonese e torna a mani vuote dalla Calabria. Idem per la Cireale 3-1 al Granillo contro l'LFA Reggio Calabria. Anichilito invece il Licata in terra campana, pocherissimo del Real Casalnuovo e trasferta nefasta. Pari esterno con Beffa per Iragusa-Castrovillari, tutto facile per l'Acagas contro la Gioiese Baby, tennistico 6-0 alla fine. Non sfruttano il fattore campo invece il Canicatì 1-1 rapido col Portici e la San Cataldese all'esordio nel 2024 2-2 contro il Re di Vivo San Luca. Nemmeno nel tempo di rifiatare, mercoledì, primo turno infrasettimanale dell'anno. Continua il duello a distanza in eccellenza a Girone B tra la capolista Enna 0-2 contro il Mazzarone e il paternò che viola Lenzo Vasi, terreno amico della Nebros, 1-2 il finale. Terza forza attardata, la compagine eblea del Modica che cala il poker a Rocca Quedolcese. Torna la vittoria il Città di Gela 3-0 al Siracusa, stesso risultato per l'Atletico Catania che vince lo scontro nelle retrovie della classifica contro la Leonfortese. Sei gol in queste ultime due gare come quelli insaccati dal Mister Bianco a domicilio del Santa Croce in perenne difficoltà. A chiudere la si potrebbe chiamare ormai zona ionica, altra vittoria al 95esimo in trasferta contro la Leonzio. Ottava gara quella dell'Ambiente Stadium che premia il Milazzo, 1-2 contro la Messana che non riesce a decollare dopo l'ottimo mercato. Il Gioiosa chiama, la Rosmarino e il Città di Mistretta rispondono. Balde al novantesimo regala per una notte la Vetta e Granata contro il Lasca di Cefalù del neotecnico Grimaudo. Di contro la Rosmarino, domenica piega l'Atletico Messina 2-0 al Fresina. Stesso risultato a Lentini per gli Amastratini, sempre sotto il segno di Salerno. Doppietta contro la nuova rinascita. Torna alla vittoria l'Aquila, di misura contro la Promende, schiacciante quella dell'Aluntina contro l'ultima della classe, 9-Azzurra, 5-1. Infine due pari con gol che si sono materializzati a Giammoro tra Valle del Mele e Sant'Angiolese, 1-1 il finale, e 2-2 ad Acquedolci tra il San Fratello e il Città di Galati. Dopo il ritiro del Real Casale e lo stravolgimento della classifica, rimangono a Braccetto in vetta al campionato di prima categoria, Girone B, il Sinagra, che di corto muso vince il derby interno contro il comprensorio del Tindari, e il Bagheria, che sempre in uno dei tanti derby palermitani contro lo Sporting Termini, vince 2-1 in rimonta. Amaro ritorno al Pissi per l'Orlandina, che viene rimontata e sconfitta dalla futura 1-3 e scivola nelle sabbie mobili della graduatoria. Trasferte palermitane a mare, infine per le Nebbroidee, Nasitana che perde 1-0 a Raimondi contro il Gangi, e per la Sfarandina che soccombe 4-1 contro il Città di Petralia. Un weekend stuzzicante ci è appena abbandonato, allettante lo sarà il prossimo, con una miriade di gare da seguire con particolare attenzione.